buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video sarò abbastanza breve anche se per me il breve è abbastanza lungo sapete come sono fatto mi piace sottolineare alcuni argomenti e rispondere ad alcune cose che magari non sono andate proprio dritte o sono andate dritte ma non per tutti intanto vi ringrazio perché il video di oggi inerente ai tifosi della juventus è andato molto bene ho visto che è un contenuto che avete apprezzato tantissimo su tutte le piattaforme su youtube su instagram su tiktok dappertutto veramente siete stati molto anche presenti siete stati anche tanto dalla mia parte mi avete fatto tanti complimenti grazie non era quello l'obiettivo però visto che comunque vi rivedete nelle mie parole poi ovviamente ci sono anche quelli che sono stati un po più caldi perché sono proprio la parte un po più calda del tifo mi dispiace che tanti non abbiano capito la mia posizione perfettamente io non sono contro i ragazzi della curva anzi per me ragazzi della curva sono speciali spettacolari si fanno i chilometri vanno a guardare la juventus a sostenere la juventus con il sole la pioggia la neve dappertutto quindi i ragazzi della curva sono sacri a me non piacciono i comportamenti dei piani alti della curva sono due concetti completamente differenti però ho visto che questo messaggio in realtà è passato a tanti praticamente tutti volevo solo rispondere a quella piccola percentuale che invece ancora non aveva ben capito il messaggio o che non ha interesse nel capirlo mi ha fatto riflettere molto in realtà quello che è successo oggi perché immaginarmi l'ultima partita di un campionato deludente per la juventus perché parliamoci chiaro questo è stato un campionato deludente nonostante la prima parte di stagione dove la juventus era arrivata a lottare insieme all'inter per le prime posizioni perché se poi non sei in grado di dare continuità non serve a niente essere rimasto lì per una parte perché veramente abbiamo fatto lato a e lato b diversi come era una volta le vecchie cassette dovevi girare per andare a ascoltare il lato successivo ecco la juventus è stata esattamente un audio cassetta in questa stagione sperando di poterla concludere al meglio questa annata qui però mi ha fatto ragionare perché perché le prossime due partite salernitane atalanta saranno le due più importanti le più decisive poi c'è anche il bologna che se dovesse mai la juventus arrivare a non vincere con la salernitana la prossima partita beh ecco che il bologna diventa quella partita che come ultima spiaggia eventualmente ci sarebbe il monza io voglio pensare che la juventus arriverà a sfidare gasperini all'atalanta in finale coppa italia il 15 di maggio già con la aritmetica qualificazione alla champions league bastano tre punti contro una squadra retrocessa domenica sera basta questo ce la possiamo fare no ce la dobbiamo la juventus non può neanche prendere in considerazione l'ipotesi di sbagliare quel match point lì anche perché è una giornata particolare di serie a è una giornata in cui il bologna giocherà col napoli la roma giocherà proprio contro l'atalanta dopo le fatiche di europa league per entrambe quindi la juventus potrebbe anche appoggiarsi ai risultati delle altre ma contro l'ultima in classifica la juventus ha necessità di portarsi a casa questi tre punti lo deve fare proprio per amore di questi colori non c'è santo che tenga la juventus deve conquistare quei tre punti lì quindi ipoteticamente ipoteticamente da parte di uno che è pessimista per questa juventus qui per quello che è questa juventus qui che non è meravigliato la prestazione di roma del risultato di roma perché 14 punti in 14 partite parlano chiaro ma con la salernitana devi vincere la coppa italia ci vedo sfavoriti ma quello è un altro discorso ma con la salernitana devi vincere significa che poi bologna e monza sarebbero due partite tanto per due partite non determinanti perché la juventus avrebbe già conquistato il post in europa e la juventus avrebbe già vinto o perso la finale di coppa italia quindi queste due partite che senso avrebbero e se bologna comunque sarà una partita in cui i supporter della juventus saranno presenti perché comunque i vikings hanno comunicato che in trasferta ci saranno a roma ci saranno eccetera eccetera significa che rimangano fuori due partite salernitana domenica e abbiamo detto prima bisogna vincere e ovviamente l'ultima di campionato che è il monza ecco io immaginarmi l'ultima di campionato quindi il monza uno stadio vuoto o comunque uno stadio in cui una parte sarà assente non ci sarà la parte più calda mi dà fastidio è qualcosa che non mi piace e quindi che cosa ho fatto sono andato sul sito della juventus ho guardato la vendita libera dei biglietti iniziata al 18 di aprile e sono andato a vedere quali posti erano ancora disponibili spoiler ci sono tantissimi posti disponibili tranne la curva sud motivo ci sono gli abbonamenti quindi tanti abbonati in curva sud hanno il loro abbonamento non saranno allo stadio per via di questo sciopero della curva e questa è la cosa brutta la cosa bella è che ci sono ancora tanti biglietti disponibili che in realtà è una cosa brutta se ci pensiamo perché se la parte dello stadio praticamente sold out sarà vuota o comunque ci andranno veramente pochi rappresentanti significa che tanti tifosi della juventus in questo momento non hanno intenzione di andare allo stadio oppure sono nella mia situazione perché questa è un'iniziativa che voglio portare qui sul canale e voglio espandere alla mia community ed è quella di riempire lo stadio della juventus per l'ultima giornata che sarà una giornata anche molto probabilmente inutile per quelli che sono gli obiettivi della juventus ma ovviamente una partita della juventus è una partita della juventus a maggior ragione per finire un anno che è stato un anno difficile è stato un anno veramente complicato ma soprattutto un'ultima giornata che sarà anche un nuovo inizio per la juventus perché lì bene o male dovremo già sapere quali saranno i piani della juventus il futuro della juventus alcuni giocatori si andranno oppure no l'allenatore quale sarà l'allenatore della juventus l'anno prossimo quindi quella lì sarà una giornata iconica sarà molto probabilmente l'ultima giornata del ciclo di allegri e si festeggerà un nuovo inizio per la juve quindi mi piacerebbe veramente riempire lo stadio non ho ancora acquistato il biglietto per un motivo non abbiamo ancora l'ufficialità degli orari non lo sappiamo che giocherà la juventus sappiamo che si giocherà domenica 26 maggio non sappiamo gli orari se vado a memoria ma anche al dall'ara di bologna non sappiamo gli orari poi non so se quella di bologna è già stata annunciata oppure no ma immagino che si stia attendendo soltanto per un discorso legato alla contemporaneità di alcune partite dovessero giocarsi alcune squadre degli accessi europei salvezza e robe del genere quindi questa è l'iniziativa cerchiamo di riempire lo stadio ho visto che in curva sud qualche posto ancora c'è in secondo anello ho visto che nei distinti est e ovest ci sono ancora tantissimi posti un po' dappertutto e ho visto che in nord ci sono ancora abbastanza spazi ecco io appena verrà ufficializzata la data ovviamente non la data l'orario della partita dell'ultima partita andrò sul sito della juventus in vendita libera e cercherò di accapparrarmi uno dei biglietti disponibili questo perché la squadra non va lasciata da sola a maggior ragione in un momento di difficoltà a maggior ragione in un momento in cui i supporter storici avranno la volontà di disertare per protesta ok non vanno allo stadio è loro diritto non andare allo stadio assolutamente io non sono qui a dire no devono andare allo stadio dico solo che mi dispiace e dato che mi dispiace vedere uno stadio vuoto in una giornata che deve essere una giornata di festa di ottimismo guardando al futuro questo è l'invito che vi faccio siete comodi a torino benissimo andate sul sito della juventus prendetevi un biglietto i prezzi sono ancora bassi sono accessibili non sono bassissime ovviamente sono bassi per quelli che sono gli standard della juventus è una partita non di cartello una partita possiamo dircelo inutile per quelli che sono gli obiettivi utile per l'amore per la juventus quindi fatevi questo favore se siete di torino io non sono di torino sono distante ho già guardato un pochettino hotel spostamenti vari come treni eccetera eccetera vengo a pagare quello che c'è da pagare ma non è un problema quando avremo la possibilità di sapere l'orario e quindi potrò capire quale treno dover andare a prendere perché stavo premontando poi ho detto sì e se la giocano a mezzogiorno e mezza o se la giocano alle tre io allo stadio non ci arrivo se la giocano alla sera molto probabilmente ce la posso fare quindi stavo ragionando un po' su queste cose qui questa è l'iniziativa che voglio espandere non voglio obbligare nessuno ad andare allo stadio non voglio obbligare nessuno ad andare a casa l'invito è invece ad andarci se avete la volontà di andare allo stadio se avete la passione di andare allo stadio non lasciamo da solo la juventus perché già domenica sera con la salernitana sarà uno stadio molto triste molto vuoto con una parte di curva assente nella serata in cui non si può sbagliare vietato sbagliare bisogna portare a casa tre punti ed è una cosa oggettivamente brutta ma l'ultima giornata che deve essere proprio il simbolo di un nuovo inizio io la juve da sola non la voglio lasciare voglio essere presente e voglio festeggiare quella giornata insieme a tutti voi quindi l'invito è un invito pacifico di andare a tifare juventus di non abbandonare la juventus di non lasciare lo stadio vuoto in un momento in cui ci sono ancora tanti biglietti invenduti fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti non vuole essere un'iniziativa politica o polemica vuole essere un'iniziativa pacifica soltanto legata alla juventus poi non so se in curva sud saranno presenti alcuni ultras comunque nonostante lo sciopero che andranno a chiedere di non esultare di non cantare di non tifare io non ne ho idea posso immaginare di sì voglio sperare di no però è una cosa che che prendo comunque in considerazione ciao a tutti ragazzi e come al solito fino alla fine forza juventus a maggior ragione in questo momento qui a maggior ragione in questo momento qui